Allora, cambiamo arma Siccome questo qua è tosso prima che prenda la mitagliatrice io consiglio di usare la toppietta in assoluto e sbrighiamoci ad inseguirlo vorrei colpire da qua niente, prima che scappa ah, quanti soldi tengo dei soldi nell'armadietto giustamente nessuno potrà scoprirlo allora tu non mi interessi mi interessa questo scopo ok tu non vai da nessuna parte così evitiamo la scocciatura che prenda la mitaglia allora tu mi senti padre quindi ti arrostisco un po', dai che è inverno e puoi sentire freddo, dai allora tu non scappi non hai capito tutta che palla muore 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 e facciamo tutto il tempo così qua e vai dammi la chiave perfetto sapevo che avrebbe funzionato ok ma è un metodo per evitare che lui prenda la mitragliatrice perché quando lui prende la mitragliatrice onestamente non è tanto facile comunque allora mettiamo che basta allora piantina yes allora guarda niente mine le mine eh niente non pensate che è minare tipo mozuffare eh vabbè lasciamo stare eh 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 lasciamo stare allora perfetto abbiamo preso tutto ora possiamo ritornare perché poi non ho capito che cosa ci fa sta finestra qua ahhh per gli stuntmen qua dovevo girare un film allora andiamo qua allora andiamo su da stanza ancora queste qua senza testa inquietante magari si confonde col tappetino vabbè ma poi quante grande sto castello porca miseria è enorme eh vabbò fa niente cioè quanto tempo ci ha messo per costruire questo castello i suoi antenati è chiusa ok chiave galleria esame chiave col stemma della famiglia salazar apre la porta alla galleria vabbè questa può chiamare galleria allora questa la ricarico che figo e già sto finendo quasi tutti i proiettili della doppietta ne ho un bel po' dai posso posso sopravvivere ancora lacrima viola allora poi andiamo qua che cavolo di mira che c'è lì a me che poi se le prendi a testate i vasi non è meglio anzi è meglio allora il sacrificio di sei vite porterà nuova luce allora facile qua quattro tre due uno questo è l'unico trucco che ho capito dall'inizio la prima volta che ci ho giocato l'unico eh allora qua ci sarà il nostro caro amico quindi prepariamoci le armi non dobbiamo battere a salazar purtroppo ma ne vabbò what the place is not friends per te non per Leon not you not you Mr. Kennedy if you don't need me and get off my back I am I am oh did you feel bad Mr. Kennedy it might come as a surprise 20 anni ma dov'è che dimostri vent'anni eh prestito in testo c'è burattino non li vedo i fili eh i miei i miei i miei i miei schiavi della mia volontà frustali ah yeah absolute control se non me ne può fregare di meno tanto te l'asso comunque you're going down da dove sono spucati give me a me make a friend che figo cosa il migliore in assoluto secondo me non c'è nulla da dire il migliore ok ho visto allora allora ho fatto il campo non ti voglio bene io se ti ammà eh allora tutti misi state sul capo facciamo quelle col bazooka vabbè ma non ti voglio bene io eh ma dove c'è la meta la mira ah lala prendetemi benedetto no bello per me per me no ok 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 benedetto no no va beh tanto sono protesso quindi si.' attaccano dove fanno loro meh briga consists alma tesori mancanami ha donne tesori No, ti dovevo prendere Ma che ci fai da tutte le due qua? Faticati Allora Bellissimo, bellissimo Bellissimo attacco Vieni qua, vieni qua Vieni qua Bello Tu sei bianco, devi andartene a bronzare, cretino Non siete tutti bianchi, vieni qua Ok Tu dove pensi di andare? No Sembra che stiamo disattivando, certo Ok Di nuovo Attaccatevi dove sapete voi Che mira che c'ho Ok Come on, dai 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 Perché youtuber non mi dà tutto questo tempo che credete voi Se ne fregano Che scemo questo Perché c'è la cerestra dai E poi ho capito perché l'ion non può rubare la balestra, io non l'ho mai capito Cioè la balestra è un'arma potentissima se la usa come Adas, sa usata e è potentissimo Perché non lo può usare anche lui, non l'ho mai capito E come Chris è il Resident Evil 5 che non sa usare l'arco Invece scema lo sa usare Bravo Che palla Convinto Allora C'è un interruttore a premerlo Certo Non possiamo rimanere qua per l'eternità Allora, prima di tutto qua aspettiamo Non mi faccio fregare Esatto Come immaginavo Non mi faccio fregare Dove sono gli altri? Ma che fa, vi nascondendo? Ma vaffanculo Bastardi, si nascondono E io vi sparo Perché mi fa giù? No 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 Ok Dove sono gli altri? Ah, sono detto Vai venite, vai Cade, venite, vai Cade, venite, vai Che da un bacino Allora Qua decorazione con crapa Pura io Convinto Gente, una massa di convinti Convinti di poter ammassare Leo Scott Kennedy Il, come si chiama? Agente governativo americano Là, come cazzo gli dice Vabbè, andiamo qua Vesta il giardino Non capito Ciao.